E' stata una serata molto interessante, un po' fuori dal contesto normale, mi sono trovato a discutere di ciclismo, in modo molto costruttivo, per me lo è stato, con dei ragazzi che appartengono il Team Brilla, squadra Under23, che ha iniziato un percorso di formazione, di crescita di questi ragazzi, che non è solo quello di cercare a tutti i conti il risultato, ma oltre ai risultati in uno sport, tra l'altro esigente come il ciclismo, continuano ad avere la loro importanza, si cerca di aiutare questi ragazzi a crescere dal punto di vista, diciamo, della comunicazione, dal punto di vista delle conoscenze generali dell'allenamento, dell'alimentazione, del imparare le lingue, di sapersi comportare, di sapersi approcciare, se così si dice, diciamo così, in un mondo moderno e desigente come quello dello sport professionistico, nella speranza che tutti loro riescono a cogliere gli elementi più interessanti, sia se continueranno a fare questo difficile mestiere, e sia nel momento in cui, per vari motivi, saranno costretti o decideranno invece di terminare questa loro esperienza sportiva. Ho dato il mio contributo nella speranza, insomma, che rimanga qualcosa a questi ragazzi.